Dunque intanto cominciamo con curiosità, si legge e si scrive Meyer, come lo diceva il cavaliere Giovanni Meyer nel 1891 quando ha costituito l'ospedale. L'ospedale in questi anni è diventato una grande realtà, un'azienda ospedale universitaria, nonché un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico. Noi impattiamo molto sulla salute e sul futuro delle nuove generazioni attraverso la cura, attraverso la ricerca e attraverso la formazione. Fra i tanti progetti che portiamo avanti, sicuramente uno molto interessante e importante è la scuola in ospedale che permette ai pazienti lungodegenti di poter non perdere gli anni scolastici. Inoltre noi siamo centro di formazione di tantissimi studenti, dai tirocinanti fino agli specializzanti, organizziamo corsi di formazione e master post-universitari. Siamo ovviamente un datore di lavoro che dà lavoro a 1500 professionisti di tutti i tipi, da dirigenti, comparto, da medici, sanitari, infermieri, os, tecnici e amministrativi. E poi infine è un ospedale fortemente orientato all'ambiente. Abbiamo un progetto importante, Mayer in Green, che permette su quattro pilastri lo sviluppo di progettualità significative sull'energia, sul verde, sulla mobilità e sulle emissioni.